buongiorno ragazzi anche questo video per tenervi compagnia mentre non ci sono parliamo di due personaggi che in questo in questi mesi questa lunga mai sono dieci mesi da febbraio a novembre situazione di emergenza allungata smontata secondo me sono due tre peggiori individui che abbia avuto l'italia nella gestione di questa emergenza ma qualcuno pensava che sto parlando di don abbondio no non sto parlando di un abbondio per quanti per quante cappellate possa aver fatto da un abbondio non è che è stato il peggiore perché io comunque gli concedo un attenuante piccolissima perché vedo che continuiamo sempre fare stesse stronzate ma di non essere preparato gliela concedo per febbraio non per adesso adesso non gli concedono gli concedo il fatto che sta evitando che l'economia italiana che già è sull'ordine il precipizio cada giù spinte da questi due personaggi uno in particolare parliamo di speranza de scobar quel nano scusate non si offendano le persone di bassa statura non parlo dell'altezza fisica parlo dell'altezza umana quel nano che nonostante i casini che ha combinato lui insieme all'altro personaggio che ha curi tanto per essere chiari ha avuto la ghigna di scrivere un libro scrivere gliela avranno scritto ascoltando le stronzate che dice poi ovviamente lo pubblicano a suo nome infatti pubblicano a feltrinelli il ricordo era sempre il fatto che un commesso della fettina di milano rischiò con mio fratello di uscire dalla porta senza toccar terra perché gli consiglio un libro mio fratello cioè forrest gamm che spiega da einstein la fisica fisica nucleare ecco la stessa la stessa possibilità di ragionamento e continuare rompere i coglioni pensando che il fratello fosse un pericoloso destro orso cioè l'ha salvato la direttrice del tempo della feltrinelli perché sennò questo ne prende un sacco è una sporta mio primo fratello ha una pazienza notevole ma quando trovi di fronte un cretino dopo un po dici se non capisci con le buone peccato che quando decide di pubblicarlo è il cominciano i picchi della nuova emergenza della seconda ondata per cui per così dire già il titolo perché guariremo guarnasso mi ricordo neanche che il titolo di merda che ha sembrava una presa per il culo ma il problema è che speranza è un catastrofista è un catastrofista che però ha dormito come molti è perché tutto il governo ha dormito compreso l'opposizione che ha se fatta delle gran pendiche durante il periodo estivo durante il periodo estivo in cui ci si poteva organizzare considerando che tutti dicevano che ci sarebbe stata una seconda ondata e invece di organizzarsi sono fatti le vacanze in una situazione emergenziale il governo le vacanze non dovrebbe mai fare dovrebbe essere sempre sul pezzo non mi risulta che certi si è andati in vacanza mentre tedeschi bombardavano londra perché ci sono situazioni in cui le vacanze non le fai punto speranza ha approfittato per scrivere quella boiata perché è una boiata in cui si auto incensa sostanzialmente ed è diventato un catastrofista non avendo fatto una sega non avendo nella sostanza potenziato le terapie intensive non avendo regolarizzati i trasporti ma lì ecco il problema invece quando cito i problemi siccome speranze alcuni vanno di pari passo non aver creato la situazione alcuni era uno di quelli che doveva occuparsi perché gli è andato sostanzialmente pieni potere di nato carta bianca anni come sistema di trasporti non gli ha sistemati si poteva fare come ha fatto in alcune zone dell'emilia affittare veicoli da privati ma non l'ha fatto perché non gli è passato per l'anticamera il cervello era troppo impegnato magari a dare appalti aziende che non che non esistono oa comprare banchi che non servono un cazzo perché i ragazzi sono hanno messo quasi tutte le scuole in educazione a distanza didattica a distanza quindi quei banchi lì non servono una sega e fanno schifo speranza cosa fa non fa niente non preme sulle regioni non non scavalca un momento in cui c'era da imporre il potere dello stato scavalcare le seghe che si facevano tra regione e regione lui dorme mi dorme lascia che la situazione vada come vada salvo poi fare una cosa che io trovo parte il libro che trovo schifoso trovate schifoso che alla fine se si riduca sempre dalla colpa ai cittadini ad una colpa al popolo come se i contagiati anzi positivi per i contagiati è una parola errata i positivi di ottobre fossero causati dalle vacanze di agosto ci sono due mesi di mezzo l'incubazione della malattia è quella che è due mesi mi sembra un po tantini guardare la colpa a qualcosa accaduto due mesi prima no ma lui se ne frega la situazione di scappa di mano perché è un dato di fatto che gli è scappata di mano ma perché non ha fatto niente niente per controllarla per prepararsi e cosa fa ricarica tutto sugli italiani cioè gli italiani sono responsabili della situazione gli italiani non hanno fatto questo non hanno fatto quell'altro non ho fatto su non hanno fatto giù e doveva far così dove cazzo hanno fatto perché fino a prova contraria sono stati eletti sì con quattro voti in croce come speranza ma sono stati eletti e cosa hanno fatto che la domanda non è campata per aria cosa avete fatto la risposta è cazzo un cazzo vi è andata di lusso la prima fase non tanto non stavo infrendomi soltanto l'aspetto molti si fermano l'aspetto sanitario dopo vi parlo anche di quello ma dal punto di vista economico è stato un disastro è stato un disastro vi è andata di lusso che la gente non vi accorrerà già dietro troppo i forconi e cosa fate riproponete lo schema dopo sempre la colpa dei cittadini perché sono loro cioè è il cittadino che si mette in quaranta in un pullman per andare a lavorare non è lo stato che invece di mettere due pullman ne mette sempre uno così costringe la gente ad ammassarsi no la colpa del cittadino che si ammassa tu non gli dai i mezzi ma lo colpevolizzi perché si è tornati la psicologia della caccia all'untore e adesso io l'ho sentito oggi quindi se qualcuno poi esce dallo schema che poi ve ne parlavano altro video del concetto del pensiero unico ai tempi dell'emergenza lo bisogna bisogna forcanarlo cioè ho letto cose contro bassetti imbarazzanti considerato che bassetti non è il primo coglione che passa per strada ma non è a favore del pensiero unico e quindi diamogli adesso io non sto dicendo che bassetti abbia ragione o torto sto dicendo che il linciaggio mediatico che gli è stato fatto e non solo mediatico è generato dal fatto che non sia uniforma il pensiero unico dei galli e degli speranza a cui dare la colpa agli altri fa solo che bene la colpa non è mai loro lui non si assume le responsabilità del casino che ha combinato o meglio della sua inerzia del suo non fare no la colpa è del cittadino la colpa è di tizio la colpa di caio la colpa non è mai mia no tu sei ti hanno dato un ruolo ti pagano per quel ruolo perché non lo fai gratis l'hai fatto de merda non ti passa neanche per l'anticamera del cervello di dimetterti perché lui non si dimette perché un altro di quelli che è bravissimo a vinciare gli altri ma prendersi nella responsabilità a pagare le conseguenze no forse è stata in germania le avrebbero cacciato a piedate nel culo hanno buttato fuori qualcuno per non l'avrà copiata mi sembra che non aver combinato cioè aver combinati casine combinato speranza sia un po più grave e per giunta ti scrivo un libro del cazzo pubblicato da una casa editrice che a dimostrazione dell'intelligenza che era il fratello di inghi e fettinelli qualcuno la chiamava la 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 versione femminile di due best magda grebes feltrinelli la chiamavano non parliamo del fratello quello il bombarolo che si è va bene siamo perdere lì c'è da aver più pena che che ridere e e poi quando stai per pubblicare per fare il bullo per mangiarci su perché anche se tu non prendersi un centesimo quando pubblico di poi comunque una risonanza anche se li vuoi una merda sappiamo tutti ti scoppia la bomba in mano e allora e comincia dalla colpa agli italiani e sono stati loro a far così di loro a far cosa prima la colpa di chi faceva le corse di chi portava in giro il cane di tizio dica la colpa di non aver predisposto la situazione non ce l'ho io nel dubbio la diamo alle regioni diamo alle regioni che tanto fa sempre comodo fa sempre bello io sono innocente ti hanno messo lì per fare un lavoro l'hai fatto da merda in un'azienda seria e lo stato a volte andrebbe visto come un'azienda dovrebbero cacciarti a pedata nel culo appunto ma peggio l'altro perché io di arcuri le conseguenze le ho viste in maniera pratica quando partirono i primi lockdown a febbraio e arcuri il 23 febbraio disse entro una settimana avevano le mascherine vi ricordo che nelle zone nella zona rossa dell'odigiano e anche a voi mi sembra nella zona rossa del veneto le mascherine sono arrivate quando la zona rossa non c'era più un mese dopo era in aprile e arrivano le mascherine quindi con un ritardo di un mese poi ovvio che se tu dagli appalti aziende che non esistono fatto spero che l'ha fatto a cui poi ti accorgi devi dare gli appalti alla fiat notoriamente produceva macchine adesso non so produce anche queste va bene tutto per tenersi in comodo l'amico doveva organizzare i posti letto di terapia intensiva ma sì ma sulla carta c'è un buone tutti a dire che ci sono quei posti letto poi devono esserci sul concreto capisco che qualcuno ci ha fatto campagna elettorale ogni riferimento al guappo di cartone non è assolutamente casuale ma quei posti comunque non ci sono non ci sono è andato di fatto li sta tirando fuori adesso poi saltano fuori gli appalti dei banchi in ritardo gli appalti dei respiratori in ritardo qualsiasi cosa è in ritardo la gestione dei trasporti zero perché non li hanno gestiti assolutamente ve l'ho detto l'iniziativa in emilia romagna l'ha presa hanno presa alcune province su indicazione della regione emilia romagna non su indicazione del governo e questo coglione adesso dovrà gestire i vaccini mi faccio notare che si fa faticare si fa una fatica boia a trovare i vaccini anti influenzali di stagione gli altri anni in questo periodo ti correvano dietro per farti la puntura adesso non si trovano non si trovano i vaccini ma mi dite perché non si trovano sti vaccini e io devo dare in mano a una persona che ha fattualmente dimostrato di essere incompetente gli devo dare in mano alla gestione della distribuzione dei vaccini anti covide perché quanti culi ha baciato alcuni per essere a quel posto perché stiamo parlando di uno che la mattina diceva una cosa poi la sera diceva un'altra una persona che qui faccio riferimento alla mozione portata avanti da da cappato ed altri rappresentanti politici e della vita civile che vuole chiarezza chiarezza sui dati della pandemia soprattutto vuole capire quanti sono morti per quanti sono morti con come la distribuzione come viene qui la chiarezza non c'è perché i dati vengono tutti omologati vengono tutti presentati a blocco io per l'esperienza diretta vi posso dire che piacentino l'eligiano non sono messi male quanto il milano assolutamente no in proporzione non è una questione di culo andrebbero scorporati per capire dove sono le zone a rischio non fare di tutto un blocco perché il danno economico già è gravissimo l'italia sta avvicinandoci al default quindi quelli che dicono adesso col culo il caldo stiano ben attenti perché il default tocca soprattutto loro perché gli altri sono già a terra quando si arriva al default è lo stato che non è mezzi per pagare i propri dipendenti spieghiamogli l'offerto veramente alcuni di questi pensano di avere il culo sicuro porca miseria hai dimostrato fattualmente di non saper gestire la situazione ma perché non ti danno una pedata nel culo e non ti sostituiscono ma possibile che veramente in italia non ci sia qualcuno con capacità migliori delle sue raga al posto di veramente si si poteva mettere fuori sgamme capiva di più cioè non ci vuole molto a capire che se non aumenti il numero dei mezzi la gente si attalca negli stessi non ci vuole molto a capire che le amministrazioni comunali non possano scendere al 75 per cento di smart working perché buona parte del personale è necessaria sul territorio cioè immaginatevi milano i vigili urbani che fanno smart working cosa fanno stanno agli incroci con con l'ipad a casa e fanno comparire le lucine così ma stiamo scherzando ma quelle personale comunale che fa conto non hanno costruito non hanno detto ci sono settori in cui si può andare smarrò scritto in cui non si può fattualmente il fatto è che poi questa cosa accade sulla gente perché la scarsa efficienza dei municipi la scarsa efficienza dei comuni passa attraverso il fatto che il personale ci sia o no ci sono servizi che fattualmente necessitano di presenza fisica se tu queste persone le lasci a casa questi servizi vanno a ramengo perché non ci si è arrivati cioè non ci vuole molto bisogna anche comprendere le realtà del territorio ma questi nel territorio non ci vanno questi la vita comune la vita delle persone non la vedono quando ho fatto riferimento alle emergenze sanitarie ci sono allora mettiamola così io ho il culo di poter pagare altrimenti ve l'ho detto nell'altro in un altro video ma attaccavo al tram aspettavo ci sono qui medi soprattutto in due reparti anzi tre oncologia cardiovascolare neurologia in cui le malattie che si affrontano non sono malattie leggere sono ben più gravi del cocco dè sono ben più gravi del cocco dè mi richiedono soprattutto due di queste cardiologia e oncologia richiedono a volte interventi tempestivi cioè se uno ha un infarto non gli puoi dire aspetta un'ora devi curarlo subito se uno ha un c di stadio 1 lo prendi lì a molta altissima probabilità di sopravvivere se lo prendi a stadio 2 cominciano a diminuire se lo prendi a stadio 3 sono cazzi ma e qui si sposta tutto il co davanti tutto il resto dietro perché perché non si è stato in grado di organizzare in qualche modo i settori e dare a ognuno la giusta importanza perché perché i dati sono falsati i dati che vengono dati forniti non sono completamente sviscerati io vorrei veramente sapere quanti sono quelli per quanti sono quelli con quanti quali erano le condizioni dei malati quali siccome speranza bloccò le autopsie ai tempi del disastro di bergamo qualche dubbio viene sul fatto che si sia voluto creare non la giusta non la sensazione della gravità della cosa la gravità della cosa c'è ma il catastrofismo è un'altra con il catastrofismo non si è mai risolto un cazzo perché se la butti in catastrofe ci si ferma la paura prende il sopravvento e il cervello quando ha paura ragiona di merda quello che vedo io è uno stato che ragiona di merda punto per piacere queste due persone facciano non faranno non lo faranno il passo indietro perché uno perché è incollato la poltrona col cazzo di partito da cui viene l'eu quando cavolo tornerà ad avere una qualsiasi poltrona che c'ha quattro elettori in croce l'altro è non lo so è più raccomandato lui di una velina da berlusconi non lo so sinceramente come le togli dai coglioni queste persone qua però è un dato di fatto che sono due incompetenti cioè sono io che sono uno che morde il cul lazzolina rispetto a questi due lazzolina è un falco che è tutto dire perché lazzolina è una roba da seggiolata in testa però rispetto a questi due soprattutto per i danni che stanno producendo è un falco però queste persone fuori del coglione non ce ne andranno fuori del coglione non ce ne andranno finché non cadrà il governo è ovvio e siccome questo governo una parte di questo governo è bisogna avere il coraggio di ammetterlo è popolata da scappati di casa o da gente presa per strada e su questo c'è ragione calenda gente che fa fatica a scrivere il proprio nome con normografo però riveste una posizione di potere guadagna bei soldi e venderebbe letteralmente il culo pur di non essere scollata da lì capisci che diventa difficile buttarlo giù anche se i numeri non ce li ha più in senato ed è per quello che stanno lasciando il culo al nanosnifone e alla sua congrega di sbandati che ormai lì Forza Italia e Forza Rione sono rimasti in pochi perché non c'hanno i numeri in senato e se non passa la legge di bilancio sono cazzi ma questi non hanno pronto ancora neanche il piano del recovery fund che è indispensabile perché questi stanno spendendo soldi in bonus che finiscono nel cesso si preoccupano dei cashback va benissimo sono tutte cose che in una situazione normale io non avrei niente il contrario ma porca miseria non siamo in una situazione normale non siamo in una situazione normale ci sono delle priorità che vanno davanti a tutto non è possibile che le priorità esistano solo per i cittadini esistano solo per il popolo mentre per loro che stanno là col culo al caldo a 13 mila euro al mese quando ne prendono pochi le priorità sono delle gran puttanate sono tenere buona la lobby di turno fare gran scena fare la ruota di Pavone e fare finta fare finta di fare opposizione perché opposizione italiana è questa è fare finta grandi proclami grandi casini la sostanza qual è sono sempre lì sono sempre lì e quando arriva la sirena al nanosnifone ma se vieni di questo che gli hanno salvato le chiappe a Mediaset tra l'altro io non ho capito chi si è scandalizzato per la cosa perché la Francia può tutelare le sue aziende mettendoci la zampona dentro l'Italia non può quello è un altro discorso spiegate dall'Unione Europea che evidentemente ha delle idee diverse o semplicemente l'Italia non conta un cazzo non ha mai contato un cazzo e continua a non contare un cazzo a livello politico in politica estera però è già lì che sta facendo i suoi conti e come li nasconde con la parola responsabilità no Berlusconi non è una questione di responsabilità è che tu sei un vecchio zazzone invece di levarti dei coglioni perché hai raggiunto l'età in cui sinceramente o fai senatore a vita o ti levi dalle balle e io non sono neanche a favore dei senatori a vita visti soprattutto certi persone visto che hanno costretto a votare la monta al cinema oltre cent'anni perché se non avevano i numeri me la ricordo questa cosa c'era da vergognarsi per stare lì ancora nel cerchio del potere ma quando è che vi levate dalle balle ma quando è che si levano dalle balle le persone che non sanno esattamente quello che stanno facendo perché così funziona lì c'è gente che non sa quello che fa vi saluto al prossimo video ciao a tutti